Sarà amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Milano ha scongiurato quindi il fallimento della FIMER, l'azienda di Terra Nuova Bracciolini che produce inverter per il fotovoltaico. Quanto laddove non si fosse verificato questo, lo scenario sarebbe stato tutt'altro decisamente molto peggiore perché avrebbe spalancato le porte di una liquidazione, a quel punto la cessazione dell'attività, facendo diventare poi, rendendo facile preda tutta l'azienda, tutte le risorse, le persone e quant'altro, di eventuali anche tentativi di speculazione. Si intravedono così spiragli di luce tra le nubi di un'avvertenza che si trascina ormai da oltre due anni. L'amministrazione straordinaria è un ulteriore tassello in un lungo percorso e sicuramente non sarà privo di ostacoli, sarà lungo articolato, però consente quantomeno di avere una visibilità di un contesto più stabile, ovviamente con tutte le norme che regolano le procedure di amministrazione straordinaria, ad un commissariamento per cui che presume di imponere una continuità produttiva, una valorizzazione dell'azienda e in maniera tale possa essere rilanciata, renderla appetibile poi anche sul mercato per un'eventuale cessione, laddove una volta che commissari avranno ad impiuto a quelli appunto sono gli obblighi delle procedure, stabilito bandi di gara con aste concorrenziali e poterla cedere a un migliore offerente che possa garantire solidità economica, piani industriali, livelli occupazionali e quant'altro. Lo scorso agosto il fondo di investimento Greibull McLaren aveva acquisito il 100% di FIMER, ad ottobre poi il giudice aveva dichiarato lo stato di insolvenza, facendo di nuovo sprofondare nell'incubo centinaia di lavoratori. Greibull McLaren non ha mai fatto mistero, l'abbiamo incontrata in diverse occasioni e ribadiscono, noi di questo ne siamo molto ben felici, ribadiscono il loro pieno e convinto sostegno e ancora interessamento nei confronti della realtà. A Terra Nuova a Bracciolini intanto la produzione continua ad andare avanti anche se a regime ridotto. Ed è questa l'importanza, abbiamo sempre appunto evidenziato, la necessità inderogabile di mantenere la continuità produttiva, proprio perché in assenza di questa avrebbe impoverito ulteriormente lo stabilimento. Grazie a tutti.